Chief Designer del progetto 667, puoi illustrarci le scelte tecniche alla base di due cambiamenti piuttosto evidenti rispetto all'anno scorso, cioè il muso più corto e la sospensione interiore di nuovo disegno? La scelta del muso corto è legata a ragioni praticamente aerodinamiche, essenzialmente abbiamo cercato di massimizzare il flusso sotto la corpo vettura, sotto il telaio, che va a insistere sulla parte anteriore del fondo. La scelta invece della sospensione anteriore push-road è legata fondamentalmente a tre aspetti, il primo sempre di natura aerodinamica con una diversa gestione di flussi, il secondo legato ai pesi, che è un sistema che permette di massimizzare la rigidezza del sistema, quindi di minimizzare il peso, il terzo, questo tipo di layout ha dato la possibilità a noi tecnici di migliorare le caratteristiche cinematiche dell'anteriore, quindi la guidabilità dell'anteriore. Questo è quello che vediamo, quello che vedono tutti, ma naturalmente sotto la carrozzeria ci sono soluzioni che non saranno mostrate al pubblico. Quali sono le aree su cui ci si è concentrati maggiormente? Fondamentalmente questa vettura sotto la pelle esterna della carrozzeria è stata rinnovata in tutte le aree, pochissimi sono i componenti che abbiamo salvato rispetto all'anno scorso, abbiamo cercato di massimizzare l'efficienza del sistema di raffreddamento, abbiamo rivisto completamente l'integrazione della Power Unity all'interno della vettura, cercando di integrarla e di armonizzare il sistema completo, abbiamo rivisto in modo importante la sospensione posteriore e la trasmissione. L'abitacolo sembra un po' più alto nelle pariative terali, ha un effetto di regolamento nuovo? Sì, la federazione internazionale quest'anno ha introdotto un nuovo regolamento per quanto riguarda incrementare la resistenza del telaio nella zona dell'headrest, nella zona del casco del pilota e di fatto questo si traduce in una protezione più spessa, più resistente e un pochino più alta. Non è sempre facile per il grande pubblico orientarsi nei ruoli, puoi spiegarci brevemente in cosa consiste il tuo ruolo, in cosa differisce da quello di un direttore tecnico che è coperto da James Ellison? Il mio ruolo, ovvero il chief designer, è essenzialmente il capo progetto della vettura completa, quindi è il tecnico che ha la responsabilità di coordinare il progetto completo. Il ruolo del direttore tecnico, di James Ellison, ovvero il mio capo, è quello di essere il responsabile tecnico ultimo di tutte le aree della gestione sportiva, quindi coordinando i lavori del telaio, i lavori del motore, coordinando i lavori del gruppo in pista e definendo le strategie tecniche di tutto il gruppo. E come capo progetto, come chief designer, da italiano per la prima volta hai preso la completa responsabilità di questo progetto, questo ti rende particolarmente orgoglioso? Poco più di un anno fa ho avuto l'onore di ricevere questo mandato dalla direzione della squadra, per me è un onore, è un onore incredibile, tutti assieme, io e tanti collaboratori che lavorano con me, abbiamo cercato di dare il massimo per mostrare che siamo capaci di fare una vettura migliore rispetto al passato a livello della concorrenza. In questo momento vorrei ringraziare tantissimi tecnici, ci vorrebbero probabilmente dieci minuti allestarli tutti, forse in loro rappresentanza vorrei fare il nome di qualcuno, delle persone che mi sono state più vicine in questi mesi, ovvero di Fabio Montecchi, di Andrea Dezzordo, di Corrado Onorato, di Tiziano Battistini e di Rory Birn, che mi ha aiutato moltissimo in questi mesi.